Dottore, ma la secchezza oculare la devo tenere con me per tutta la vita? No, no. È dal 2015 che le nostre conferenze scientifiche hanno portato il dry eye disease, i disturbi di lubrificazione, da disturbo a vera e propria patologia. Quindi noi abbiamo un atteggiamento non più supplettivo, vuol dire prova questo con l'iria, vediamo come va, accurativo, identifichiamo le componenti che non funzionano nel suo occhio e cerchiamo di ripristinare la loro efficienza per garantire un migliore equilibrio di tutta la lubrificazione. Ma è una patologia cronica, vuol dire che impieghiamo molto tempo per recuperarla anche se i progressi sono visibili anche dopo qualche mese di applicazione e di dedizione alle nostre cure. Ma come dico sempre, prescrivo con l'iri non supposte, quindi si può anche fare perché alla fine il risultato è estremamente appagante. Coraggio!